L'ospitalità da noi è una cosa molto importante, è per questo che invitiamo spesso i nostri clienti qui da noi a trascorrere una giornata. La pasta e ceci viene cucinata dalle nostre donne, è una pasta molto semplice, è il nostro piatto tipico. Giulia va all'olio? Eccola mamma! Che vino si abbiamo oggi? Ci sta pensando papà e Andrea. Allora che vino hai scelto per la carne? Riserva di Pizzone 2006. Ah però, quando ci sono gli ospiti si beve bene, no? Anche se si beve sempre bene la rocca delle macchine. Dove ho scelto il Sassir? Può andare bene? Andiamoci a spiegare, vediamo la cosa. Ci siamo? Abbiamo degli ospiti stranieri che amano molto la cucina italiana e abbiamo il vino. Sassir, che anno è? 2008. Ecco la nostra pasta e ceci. Un seconda per favore, un cettino d'olio. Un seconda per favore, un cettino d'olio. Un seconda per favore, un cettino d'olio. Se ceci. Vi vuole ancora? Vi vuole ancora? Vi vuole ancora? Buona, ragazzi. Tutto sommato la rocca delle macchie è una vera famiglia. Ciao! Viva! Viva rocca delle macchie! Viva rocca delle macchie! Grazie a tutti